Benvenuti ragazzi, in questa lezione parleremo del genere fantasy. Iniziamo partendo da Harry Potter. Chi non conosce il famoso maghetto protagonista della saga nata dalla penna dell'autrice Joan Rowling, nota come J.K. Rowling, di cui tra l'altro è da poco uscito l'ottavo libro dal titolo Harry Potter e la maledizione delle rede. Inoltre conoscerete di certo i film o i libri del Signore degli Anelli o delle cronache di Narnia o altri simili. Quelli appena citati sono appunto libri e film di genere fantasy. Il genere fantasy è caratterizzato da personaggi straordinari, da imprese eccezionali, quindi fuori dal comune, dalla lotta tra il bene e il male, ambientati di solito in luoghi immaginari e magici, spesso collegati però al mondo reale tramite passaggi segreti, porte o altro. Se pensiamo ad esempio a Harry Potter abbiamo il famoso binario 9 e tre quarti che collega il mondo reale, il mondo dei babbani, con invece il mondo dove c'è la scuola di Hogarth. Inoltre la presenza di creature fantastiche, ad esempio elfi, draghi, maghi o altro, tempi di solito imprecisati e lontani, a volte possono richiamare ambientazioni medievali, personaggi dotati di facoltà eccezionali e per lo più magiche. La struttura è così composta di solito una situazione iniziale in cui si presentano degli ostacoli o delle prove da superare, uno sviluppo solitamente piuttosto complesso, con pericoli e spesso un viaggio o dei viaggi dell'eroe, il superamento delle prove, quindi attraverso lotte o astuzie, quindi l'uso dell'intelligenza, l'aiuto di oggetti magici o di creature fantastiche. La conclusione solitamente prevede la sconfitta del male e anche una maturazione, una crescita personale del protagonista. L'eroe, se pensiamo ad esempio appunto a Harry Potter, è spesso un predestinato, quindi un personaggio che ha già scritto nel suo destino, persino prima della sua nascita, il suo futuro da eroe. Poi, però, è anche un personaggio semplice, però, ad esempio, può essere spesso un ragazzo anche giovane o giovanissimo, come appunto Potter. L'eroe deve superare delle prove perché lotta contro il male, contro degli antagonisti malvagi, entrano in gioco, l'eroe ha dei poteri magici o degli oggetti magici, che a volte gli vengono forniti da degli aiutanti. E l'eroe, in conclusione, appunto, trionfa e matura. Esce da questa avventura diverso, più grande e più sicuro di sé. Ora che abbiamo conosciuto le caratteristiche principali del genere, non ci resta che leggere dei testi fantasy per entrare insieme in mondi magici e vivere delle avventure indimenticabili.